Dal Vangelo di Giovanni In quel tempo Gesù rispose a Giuda Taddeo Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre perché il Padre è più grande di me ve l'ho detto ora prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate. sorelle e fratelli carissimi la location del Vangelo che abbiamo ascoltato questa domenica è la stessa di domenica scorsa il Cenacolo il discorso da Dio che Gesù fa ai Suoi discepoli e attraverso di loro anche a ciascuno di noi che siamo i discepoli della Chiesa di oggi. la situazione in cui Gesù fa questo discorso di addio è tragica lui sta per morire Giuda Iscariota è appena uscito dal Cenacolo trovando nel suo cuore intorno a sé la notte perché è uscito per tradire il Signore e tutti gli altri apostoli lì presenti sono inquieti, preoccupati, impauriti dal punto di vista umano questo gruppo certamente non sarebbe stato in grado di aprire un nuovo ciclo non sarebbe stato in grado di iniziare una nuova storia come quella che Gesù stava annunciando proprio per questo come abbiamo ascoltato Gesù promette lo Spirito promette il Paraclito e questo è il motivo che ci ha portato in questa piccola chiesetta antica della città di Lanciano dedicata proprio allo Spirito Santo quindi Gesù e gli apostoli vivono la tragicità di questo momento delle ultime ore di vita di Gesù e attraverso le domande che i discepoli fanno a Gesù sono rappresentate le domande della chiesa delle origini e della chiesa di ogni luogo e di ogni tempo anche le domande che abitano il mio cuore e il vostro cuore fratelli e sorelle le domande che pongono gli apostoli a Gesù sono quattro e nella Bibbia come nella letteratura antica il numero quattro rappresenta proprio tutta l'umanità facendo riferimento ai quattro punti cardinali la prima domanda è quella che fa Pietro quando dice a Gesù Signore perché io non ti posso seguire anche se tutti andranno via io ti seguirò fino alla fine darò la mia vita per te e Gesù gli dice Pietro darai la tua vita per me prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte Gesù evidenzia la fragilità di Pietro ed evidenzia la nostra fragilità a volte abbiamo l'entusiasmo nel cuore e pensiamo di essere pronti a testimoniare il Signore sempre e comunque Gesù ci ricorda che non sempre saremo capaci di farlo Gesù ci ricorda che potremmo cedere alla tentazione Gesù ci ricorda che potremo sbagliare ma ci ricorda anche di non temere perché Lui comprende la nostra fragilità ci rimette in piedi e ci darà la possibilità di seguirlo fino alla fine proprio come è accaduto a Pietro la seconda domanda è rivolta a Gesù dall'Apostolo Tommaso quello di cui noi custodiamo le reliquie nella cattedrale di Ortona Tommaso domanda al Signore Signore ma tu ci dici che verremo con te ma non conosciamo la strada come faremo e Gesù risponde io sono la via la domanda di Tommaso evidenzia la realtà della vita di ciascuno di noi anche noi siamo sempre in ricerca della nostra via siamo sempre in ricerca della strada che possa condurci alla gioia alla felicità alla realizzazione piena della nostra esistenza e le proposte sono innumerevoli hanno idee di strade per noi i nostri genitori i nostri insegnanti noi stessi il parroco la società i mass media i social ognuno ci propone qualche strada Gesù ci dice seguite me io sono la via se davvero vuoi raggiungere la gioia la pienezza della tua esistenza fidati di me e seguimi la terza domanda è posta da Filippo Signore mostraci il Padre e ci basta Gesù dice Filippo da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto chi vede me vede il Padre come puoi dirmi mostraci il Padre e ci basta anche noi vorremmo vedere Dio era il desiderio dello stesso Mosè quando chiese al Signore di poter vedere il suo volto ma per vedere Dio dobbiamo concentrarci su Gesù è il volto di Gesù che ci presenta il volto di Dio è la vita di Gesù che esprime la possibilità della vita divina dentro di noi più siamo figli nel Figlio più riusciremo a rendere presente nel mondo di oggi e nella Chiesa di oggi il volto misericordioso e amorevole del Padre del Cielo e l'ultima domanda quella alla quale risponde proprio il Vangelo di oggi è posta da Giuda Taddeo l'altro Giuda non l'Iscariota che faceva parte del gruppo degli Apostoli Giuda dice Signore come è potuto accadere che tu ti sei rivelato a noi e non al mondo infatti se Gesù fosse stato il Messia secondo la mentalità degli antichi avrebbe dovuto rivelarsi a tutta l'umanità con dei segni grandiosi con delle manifestazioni incredibili Gesù rifugge da tutto questo vive nel segreto e chiede agli Apostoli di non rivelare i miracoli di cui sono testimoni e Gesù spiega il motivo per cui ha fatto così dicendo a Giuda ma anche a noi che il mondo la sua rivelazione non la può comprendere così come non comprende la rivelazione che fa la Chiesa oggi non può comprendere la rivelazione di Dio e soprattutto non può comprendere la rivelazione dell'uomo perché Gesù ci rivela che il segreto dell'umanità è l'amore Gesù ci ricorda che la nativa e originaria vocazione di ogni essere umano è quella di amare dopo aver scoperto di essere amato l'amore il mondo non lo capisce perché il mondo capisce la gloria il potere il successo la ricchezza questo dice Gesù a Giuda e agli altri Apostoli questo dice Gesù oggi a noi donare la propria vita mettersi al servizio degli altri non è proprio del mondo non è alla moda oggi il mondo va dietro a chi ha dei servitori non chi si mette a servizio perciò Gesù passa attraverso la mediazione del gruppo apostolico perciò Gesù oggi passa attraverso la nostra mediazione e Gesù ci dice di non temere se abbiamo delle paure dei turbamenti nel cuore la paura e il turbamento fanno parte della vita dell'uomo ci sono paure piccole arrivare tardi a un appuntamento il rischio di poter fare un incidente non riuscire a svolgere il lavoro nei tempi che ci erano stati richiesti non temere di non riuscire a far bene una cena in cui ci sono degli ospiti ma queste piccole paure passano immediatamente poi ci sono dei turbamenti più grandi delle paure più significative un genitore si preoccupa del futuro di un figlio della strada che un figlio possa intraprendere una coppia che si sta sposando si preoccupa di come potrà andare la sua vita matrimoniale e familiare un sacerdote a cui viene affidata una parrocchia si preoccupa è inquieto per l'impegno il compito che gli è stato dato e poi ci sono le paure più grandi di tutte la solitudine e la morte Gesù ci dice di non preoccuparci perché queste paure le ha avute anche lui anche Gesù ha avuto timore della morte anche Gesù ha avuto timore della solitudine per ben tre volte il Vangelo di San Giovanni ci dice che Gesù è stato turbato ed è stato inquieto di fronte alla tomba del suo amico Lazzaro quando è giunta l'ora della sua fine anche se poi subito ha detto ma è per quest'ora che io sono venuto e quando ha dovuto annunciare il tradimento di Giuda quindi se Gesù ci dice di non temere ce lo dice a ragion veduta ce lo dice per esperienza personale perché prima di darlo a noi il suo spirito Gesù lo aveva nel cuore lo spirito di Dio aveva nel cuore il paraclito perciò aveva detto agli stessi apostoli nello stesso discorso non vi lascio orfani vi invierò il paraclito questa parola per noi così desueta anche un po' strana significa colui che ti viene a fianco colui che ti difende colui che ti protegge colui che ti consola lo spirito santo viene al nostro fianco per fare tutte queste operazioni per compiere tutte queste azioni che Gesù ha promesso egli ci difende egli ci consola egli ci protegge egli ci insegnerà tutto ciò che Gesù ci ha detto e ci ricorderà ogni cosa ci insegnerà ciò che Gesù ha detto perché lo spirito non ha un altro Vangelo da annunciarci ci annuncia lo stesso Vangelo che ci ha insegnato Gesù e ce lo ricorda lo riporta all'attenzione del nostro cuore affinché noi possiamo credere in ciò che Gesù ci ha annunciato e soprattutto possiamo metterlo in pratica il dono dello spirito porterà nei nostri cuori proprio il dono della gioia e il dono della pace non la pace del mondo ci ha ricordato Gesù nel Vangelo di oggi ma la pace che viene da Dio la pienezza di tutti i doni del Signore perché qual è la pace del mondo qual è la pace che conosceva la società al tempo di Gesù era la pace romana la pace dell'impero che era però una pace basata sul potere sulla forza delle armi e che in modo simbolico era rappresentata proprio dal mito della fondazione di Roma Romolo traccia un solco e dice a Remo tu questo solco non lo puoi attraversare perché io sono il più potente e se lo attraversi ti uccido la pace del mondo è questa la pace del mondo è quella basata sul potere finché io comando impongo le regole impongo le leggi ma se colui al quale io le impongo diventa più forte di me a sua volta imporrà a me le sue regole quindi la pace di Roma la pace del mondo è la pace che c'è fra una guerra e l'altra e ahimè in questi giorni lo stiamo vedendo una volta di più e direttamente momento dopo momento nella nostra vita la pace di Gesù è diversa la pace di Gesù è frutto dello Spirito la pace di Gesù è pienezza dei doni la pace di Gesù è l'amore nel cuore la gioia nel cuore quell'amore e quella gioia che come annunciatori e testimoni del Vangelo noi dobbiamo portare ovunque a tutti con la presenza dello Spirito dentro di noi sicuramente questo ci sarà possibile di Gesù di Gesù di Gesù si